Tra le sfide più interessanti del quindicesimo turno di andata, la gara tra Tossicia e Torrese rientra di diritto tra quelle in vetrina nel turno infrasettimanale del girone A di promozione. La squadra di casa, reduce dal confortante successo esterno di Balsorano, staziona in una posizione di classifica ancora interlocutoria, ma la zona play-off è abbastanza vicina ed è quindi superfluo aggiungere altro per trovare le motivazioni per questa sfida che ha alla lunga anche un vago sapore di stracittadina. Non sarà impresa di facile attuazione, quella alla quale puntano i ragazzi del DS Timoteo, chiamati ad ospitare la capolista Torrese, la quale divide il primato in coabitazione con il Real Giulianova e ha probabilmente motivazioni ancora maggiori per tentare di riportare a casa il bottino pieno, onde evitare di rimanere appiedata e scalzata dal gradino più alto della classifica. E sono proprio i primi della classe a iniziare la gara nella metà campo avversaria, anche se il piazzato da limite di Capretta sorvola la trasversale di Bartolomei. Pochi minuti dopo i giallorossi ci riprovano con lo stacco in area del Bombertorre che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta sull'ottimo spunto di De Sanctis dal fondocampo. L'iniziale monologo giallorosso si chiude al tredicesimo con una caparbia iniziativa di Capretta che vince una serie di rimpalli e con la sfera che arriva poi su Schofolahan fermato in posizione irregolare. La truppa di mister Muscarat abbandona l'iniziale atteggiamento attendista e comincia a guadagnare metri nella metà campo torrese, anche se Donateo non corre inizialmente grossi pericoli sulla conclusione debole e telefonata di Cifaldi con quest'ultimo che si ripete pochi secondi dopo e stavolta lo fa in maniera più convincente anche se l'estremo giallorosso è reattivo per disinnescare il gran sinistro dalla distanza del numero 11 di casa. Poco dopo locali ancora aggressivi con un nuovo duello che si rinnova tra Cifaldi e Donateo. Anche stavolta è il portiere della capolista da avere la meglio con un reattivo intervento ad alto grado di difficoltà. La gara rimane in bilico e aperta a qualsiasi eventualità. Dopo il buon momento dei padroni di casa la torrese torna a riemergere con l'intervento aereo di De Sanctis che spedisce la sfera di pochissimo a lato. I locali tornano a graffiare al venticinquesimo con il provvidenziale intervento in chiusura di Lucci su Ioannone ottimamente innescato dalla verticalizzazione di Fasciocco. Sull'altro fronte la capolista non riesce a ruggire con il diagonale di Giampieri che va a spegnersi a fondo campo. Di ben altro tenore la reazione della squadra di casa che al 38esimo passa all'incasso con Menei il quale finalizza la manovra corale che prende spunto da una iniziativa di Fasciocco dalla corsia di destra e prosegue poi con l'appoggio orizzontale di Napolitani per Ioannone che scodella verso Menei implacabile nell'anticipare Donateo costretto alla resa. Il portiere ospite rischia anche al 44esimo ma stavolta la rasoiata di Cifaldi dal vertice d'area non incute particolari timori. Prima del rientro negli spogliatoi i ragazzi di Majorani accennano una timida reazione con Bartolomei che smanaccia la sfera sul temibile sinistro in area di De Sanctis. Alla ripresa delle ostilità il Tossicia cerca di mettere al sicuro il prezioso vantaggio ma il tentativo di Fasciocco dal vertice d'area piccola si spegne oltre il secondo palo. Nulla da fare anche per il successivo affondo di Ioannone che riesce a vincere una serie di rimpalli in area ma non a piegare Donateo che sbroglia la situazione intricata in collaborazione con Addari. La Torrese torna in cattedra al sedicesimo con il siruro di Scartozzi che viene azzerato dal palo alla destra di Bartolomei il quale ringrazia per lo scampato pericolo. Dopo l'infruttuosa replica tossiciana con la sfera che termina tra le braccia di Donateo la squadra giallorossa ristabilisce la parità al minuto 25 e sciofola Hanna a regalare il sorriso alla squadra giallorossa confezionando la segnatura con un beffardo colpo di nuca su uno spiovente dalla sinistra che sorprende Bartolomei non essente da colpe che non riesce a bloccare il pallone. Il risultato non subirà altri cambiamenti anche se prima dei titoli di coda la gara riserverà ancora qualche spunto di cronaca interessante. Alla mezz'ora l'ottimo affondo di Lucci viene magnificato da sciofola Hanna che stavolta non riesce ad essere altrettanto efficace. La gara si chiude con la conclusione fuori bersaglio di De Sanctis preceduta dalle tiepide proteste di Capretta che finisce a terra in area avversaria ma l'intervento non è ritenuto sanzionabile dal signor Di Carlo di Pescara che subito dopo spedisce le squadre sotto la doccia. Siamo qui con il mister della Torrese, mister Maiorano. Mister, come giudica questo pareggio? Tutto sommato credo che sia stato un pareggio giusto. Forse sulle situazioni pericolose siamo riusciti a crearle più noi però devo dire che la partita è stata una bella gara, vivace sotto ogni punto di vista. sinceramente me l'aspettavo, ecco, in questo periodo il Tossigio sta vivendo un momento buono riduce da diversi risultati consecutivi, quindi sapevamo dell'importanza e della difficoltà di questa gara. Comunque sono soddisfatto la prestazione di me perché tutto sommato alla fine il pareggio penso che sia un risultato giusto. Ho visto che avete reclamato per molte decisioni arbitrali. Ma sì, sul loro gol chiaramente è sembrato un netto fuorigioco, però poi rivedremo l'immagine e vedremo. Poi nel finale chiaramente abbiamo pressato, sono create diverse situazioni pericolose in aree con diversi scontri. Dalla panchina è difficile giudicare. Comunque se l'albito è deciso così è giusto riconoscere il compito dell'albito alla fine, credo. E' un pareggio che non pregiudica il vostro cammino verso una promozione diretta? Ma guardi, noi credo che il nostro cammino è quello di cercare di arrivare più in alto possibile. E' chiaro che se poi le altre squadre, mi riferisco a Giulianova, vincono tutte le partite e credo che per noi ci sia poco da fare. Ecco, è chiaro, noi siamo un buon gruppo, una buona squadra. E' chiaro che non abbiamo quelle caratteristiche di poter ammazzare il campionato. Probabilmente Giulianova se lo farà è giusto che lo vinca. Siamo qui con il mister del Tossicia, mister Muscaram. Come giudica questo pareggio contro la prima in classifica? Ma una partita difficile, si sapeva che sicuramente sarebbe stata una partita difficile. Direi che i ragazzi hanno fatto un grosso primo tempo dove sicuramente il vantaggio era più che meritato. Poi nella ripresa è uscito un po' il tasso tecnico della squadra avversaria che in avanti sicuramente è dotata di giocatori di categoria superiore e siamo stati in poche difficoltà. Io penso che alla fine il pareggio possa essere giusto. Vedendo gli ultimi risultati possiamo dire che siete una squadra in salute? Sì, se non sbaglio sono sette o otto partite che facciamo un risultato di fila, quindi è una squadra in salute ma soprattutto è una squadra che ha voglia di fare il risultato e si vede in campo ogni domenica e questo è di buon auspicio per il futuro. Dove può arrivare questo Tossicia? L'obiettivo è la salvezza. Prima raggiungiamo la salvezza, penso che sia l'obiettivo della società e della squadra. Poi io credo che questa sia una squadra comunque con giocatori di categoria che può far bene ogni partita. Siamo qui con il DS del Tossicia, Timoteo. Possiamo dire che è una bella partita oggi? Sì, è una bellissima partita. Abbiamo giocato contro una squadra che prima in classifica è sicuramente forte e noi volevamo fare belle figure. Stiamo facendo delle ottime partite, il merito sono dei giocatori, dei ragazzi che si allenano costantemente e mettono tutto il loro impegno e l'Allenatore Muscara sta facendo la differenza. Quindi oggi è una partita veramente giocata bene, bene, bene. Dove può arrivare la sua squadra? No, non è importante arrivare subito a 42 perché purtroppo non è che abbiamo grosse ambizioni. Però diciamo che la squadra è così sicuramente qualche soddisfazione ce la leveremo. Cosa si sente di dire ai suoi ragazzi dopo una bella partita come quella di oggi? Ma in effetti a qualcuno che si stava rammaricando del pareggio preso negli ultimi dieci minuti abbiamo detto tutti che hanno fatto un'ottima partita e che siamo contenti della prestazione. Non possiamo dirgli niente. Sono ragazzi, parecchi sono giovani, parecchi fuori quota sono bravi e poi abbiamo le persone quelle un po' più esperte che stanno facendo un po' la differenza. Quindi diciamo la vostra forza è nel gruppo? Sì, è il merito, ripeto, per l'ennesima volta credo che oltre alla società che stiamo facendo buoni sforzi per cercare di reggere questa categoria diciamo è il nono anno che Tosicida sta in promozione e il merito è il collante dell'allenatore Muscarà che è al primo anno che allena in promozione e si sta comportando benissimo. Qualcuno aveva qualche perplessità che era la prima volta però in effetti ci sta stupendo. Speriamo che rimanga anche il prossimo anno con noi.